Musica Allarme di confartigianato, nella bolletta elettrica delle piccole imprese, un extra costo da 1,3 miliardi. Slitta al 31 dicembre, il termine per la richiesta dei contributi aziendali per apprendistato e alternanza scuola-lavoro. Innovazione, le piccole imprese italiane protagoniste alla Maker Faire 2018. Roma si prepara a Simposio Trionfo del Gusto, opportunità per le imprese del settore associate. A Bergamo, l'artigianato si impara da bambini. Bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Tasse e oneri generali di sistema gonfiano la bolletta elettrica delle piccole imprese, che, denuncia Confartigianato, pagano oltre un miliardo in più rispetto alla media delle aziende italiane. I dettagli nel servizio di Lorenza Manessi. Meno consumi, più paghi. È questa l'assurda regola che costringe le piccole imprese italiane a pagare per l'energia elettrica 1,3 miliardi in più rispetto alle aziende più grandi. I maggiori costi sono stati calcolati da Confartigianato, che torna alla carica per denunciare lo squilibrio nell'imposizione di tasse e oneri generali di sistema sulle bollette degli imprenditori italiani. Così si scopre che le attività più piccole, quelle in bassa tensione, consumano poco più del 34% dell'energia, ma pagano il 46,3% degli oneri generali di sistema. Nel frattempo, le grandi imprese in alta tensione consumano il 19,2% dell'energia, ma pagano soltanto il 9,3% degli oneri. Bollette alla mano, il paradosso è ancora più evidente. Una piccola impresa in bassa tensione sborsa 7,1 euro di oneri ogni 100 kWh, mentre una grande azienda in alta o altissima tensione paga soltanto 2,6 euro. Ed ecco spiegato il maggiore costo di oltre un miliardo di euro a carico dei piccoli imprenditori. Un divario che lievita addirittura 2 miliardi nel confronto con la media delle piccole imprese europee. Il problema si trascina da molto tempo e Confartigianato lo ha indicato al governo tra quelli più urgenti da risolvere per contribuire a ridurre la tassazione sui consumi energetici delle piccole imprese. Basti dire che oneri generali di sistema e accisa pesano per il 38% sull'importo finale delle loro bollette elettriche. E allora, sostiene il presidente Giorgio Merletti, bisogna mettere mano al prelievo fiscale. Serve con urgenza una riforma che elimini l'assurda disparità di trattamento che penalizza i consumi elettrici delle piccole imprese rispetto alle grandi aziende. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2018 per accedere ai contributi aziendali previsti per le piccole imprese che vogliano investire sulla formazione giovanile, in particolare sull'apprendistato e sull'alternanza scuola-lavoro. I contributi che andranno a coprire i costi di tutoraggio aziendale sono dedicati all'apprendistato di primo livello fino a un massimo di 3.000 euro all'anno e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro con un contributo massimo di 500 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente al sito fixotutoraggio.italialavoro.it Dal 12 al 14 ottobre la Fiera di Roma ha ospitato la Maker Faire 2018, il più grande evento dedicato all'innovazione tecnologica e alla manifattura digitale. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Roma torna protagonista dell'innovazione digitale con la quinta edizione della Maker Faire European Edition, la fiera della manifattura digitale e del saper fare artigiano. Tre giorni di invenzioni, innovazioni e tecnologie digitali applicate all'artigianato, all'agricoltura e alla manifattura tradizionale. Il paradiso per chi crede come confartigianato nell'impresa 4.0 e nelle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Le opportunità sono veramente innumerevoli e innumerevoli sono le tecnologie che anche oggi vediamo qua applicate. Io credo che continua una fase molto importante per noi piccoli imprenditori nella quale dobbiamo cercare di capire tutti come si sta muovendo il mercato, come si stanno muovendo le tecnologie e conoscendo le novità, conoscendo le opportunità che si aprono, farle nostre. Quindi cercare di metterle in pratica pezzo per pezzo, una alla volta, nelle nostre attività. Io credo che si aprono un ventaglio di possibilità nuove che sta a noi cercare di coglierle e farle diventare un nuovo business per le nostre realtà. Quindi un continuo rinnovamento, una continua formazione e un continuo sperimentare nuove tecnologie e all'interno di questa fiera c'è l'opportunità di vederle anche messe in pratica. Decine le imprese associate che grazie a confartigianato sono sbarcate alla fiera di Roma in un futuro fatto di bit e schede elettroniche, di stampanti 3D, droni e realtà aumentata. La Maker Faire sta diventando sempre di più la festa delle imprese artigiane che innovano. Innovano ormai in mille modi diversi. Utilizzano le tecnologie per proporre nuove soluzioni di economia circolare, utilizzano le tecnologie per riproporre lavorazioni tradizionali, utilizzano le tecnologie per proporre nuove forme di creatività che comunque utilizzano la mano e la capacità artigiana per creare prodotti unici e straordinari. Tra le imprese associate a confartigianato che hanno mostrato la propria innovazione alla Maker Faire di Roma c'è anche una piccola impresa vicentina, la Alisea, che fa del riuso della sostenibilità ambientale e dell'etica aziendale i propri tratti distintivi. L'intuizione di Susanna Martucci fu quella di recuperare la grafite destinata alla discarica per creare una matita innovativa e ad altissimo valore etico. Oggi Alisea sta allargando i propri orizzonti. Abbiamo creato un nuovo materiale che abbiamo chiamato G-Powder, un materiale che si occupa del trattamento dei tessuti utilizzando sempre la grafite, la polvere di grafite di perpetua, permettendo un risparmio del 90% d'acqua e del 47% di energia ma soprattutto sfruttando le caratteristiche della grafite che è un abrasivo e un ammorbidente per cui la fibra tessile acquista una mano veramente unica. Il nome di questo acceleratore sull'evoluzione che diamo ad altre aziende in vari campi di business l'abbiamo chiamato Endorse by Perpetua e ho il piacere di presentare qua al Maker Faire per la prima volta Rode, che è un marchio innovativo di moda sostenibile a cui abbiamo dato l'accesso all'utilizzo nei nostri brevetti e che ha fatto Graffa IT che è questa. Quindi questo è cotone organico, è trattato in grafite e questa grafite rende la fibra, non potete sentirla, ma è assolutamente unica. Dal 17 al 19 novembre Roma ospiterà Simposio Trionfo del Gusto l'evento dedicato all'eccellenza enogastronomica italiana rivolto ad appassionati, addetti ai lavori e operatori dell'intera filiera. Una vetrina importante che Confartigianato offre alle imprese associate con sconti e riduzioni, in virtù dell'accordo firmato dalla più significativa organizzazione di rappresentanza delle piccole imprese italiane e l'organizzazione dell'evento. Per info e dettagli è possibile visitare il sito internet www.simposiotrionfodelgusto.it Il 7 ottobre Confartigianato Bergamo ha organizzato la prima edizione di Confa Artigiani che insegnano, che ha coinvolto quasi 2000 bambini. Vediamo com'è andata nel servizio di Lorenza Amanessi. Un futuro da artigiano si costruisce fin da bambini, così la pensa Confartigianato Bergamo che il 7 ottobre ha dato vita alla prima edizione di Confa Artigiani che insegnano, una manifestazione organizzata a Nembro, comune della provincia bergamasca, che ha coinvolto quasi 2000 bambini che si sono messi alla prova nei laboratori realizzati da 24 maestri artigiani di Confartigianato Bergamo. E così, tra gioco, festa e curiosità, i bimbi si sono cimentati nei tanti mestieri, da quelli tradizionali ai più innovativi, che sono il patrimonio dell'artigianato bergamasco e italiano. Alla fine tutti soddisfatti, felici i bambini che al termine della giornata hanno ricevuto i diplomi del piccolo artigiano, da portarsi a casa per far vedere anche a mamma e papà che fare l'artigiano è bello, come fare il calciatore o l'avvocato, anzi, a volte lo è molto di più. E soddisfatto è il presidente di Confartigianato Bergamo, Giacinto Giambellini, che in questa iniziativa crede molto per far capire ai più giovani che le attività artigiane sono moderne, offrono un'occupazione gratificante che permette di creare prodotti e servizi unici, di qualità e tecnologicamente avanzati. Far vedere, far vedere ai ragazzi quali sono i nostri mestieri e farli innamorare di questo mestiere, possono essere l'idraulico, la sarta, il fotografo, tutti i nostri 180 lavori sono bellissimi e vogliamo farci vedere, siamo usciti dal nostro guscio e stiamo diventando farfalle. Oggi vogliamo far vedere i nostri bambini, sperando che loro si innamori di noi come noi amiamo noi. Milano 27 e 28 ottobre, competenze per competere, meeting formativo giovani imprenditori, Digital Strategy Business al centro dei due giorni di formazione del Movimento. Siamo in chiusura, il momento per vedere insieme il numero della settimana, vediamo. 10601 sono le imprese artigiane digitali che operano nei servizi internet, realizzazione di portali web, produzione di software e commercio elettronico. Bene è tutto, l'appuntamento come sempre è per lunedì sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buon lavoro e buona settimana!